Altri punti affrontati dal Presidente Maroni, la crisi economica, le richieste al Governo di avere certezze in merito ai fondi per la Cassa Integrazione, in derog poi il capitolo Expo, un meccanismo che si era incepato ma che ora si è rimesso in moto, ha detto il Presidente. Sono preoccupato per la crisi e per come il Governo italiano non la sta affrontando come dovrebbe affrontarla. Noi stiamo ancora in attesa per esempio di sapere quanti saranno i fondi che arriveranno in Regione Lombardia per la Cassa Integrazione in deroga. Io sono pressato tutti i giorni dalle parti sociali e dai sindacati che vogliono dalla Regione Lombardia sapere quando i fondi saranno erogati. Io ho già detto che sono pronto ad anticiparli ma se so quanti saranno 200 milioni, 300 milioni, 500 milioni. La stima che facciamo è che in Lombardia serva un miliardo di euro. Noi possiamo anche trovarli però io voglio la certezza che il Governo ha attribuito alla Regione queste risorse. Poi li anticipo perché noi siamo bravi e abbiamo le risorse ma finché la certezza non ce l'ho io non sostituisco il Governo e purtroppo questo è un altro capitolo su cui il Governo sta mostrando inadempienza. Siamo riusciti a rimetterlo in moto per quanto riguarda Expo perché quando io sono arrivato a fare il Governatore c'era molta confusione e c'era un meccanismo che si era inceppato. Adesso siamo riusciti a metterlo in moto anche con la leale collaborazione tra istituzioni. Il Presidente della Regione e il Sindaco di Milano hanno collaborato e stanno collaborando in questa direzione e questa è una novità diciamo nel panorama istituzionale italiano. E la stessa cosa facciamo con il Presidente del Consiglio. È stato approvato, oggi viene approvato mi pare, il decreto su Expo in Parlamento. Purtroppo viene approvato con la fiducia e quindi lo dico da segretario della Lega noi voteremo contro la fiducia astenendoci sul provvedimento perché contiene delle cose buone come provvedimenti su Expo ma l'astensione è dovuta dal fatto che noi abbiamo chiesto finora inutilmente al Governo, qui lo dico anche da Governatore, a tutela delle imprese lombarde di prendere una decisione saggia e rapida che è quella di non procedere all'aumento dell'IVA siamo in attesa di questa decisione e anche per questo oggi voteremo contro la fiducia perché finora il Governo ha parlato un'altra lingua.